Since you and I, there is no one in the room Camina sano, niente copia come Romino Albano 2021 sono ancora ricco, questi sono ancora poveri, non so come fanno Dammi i soldi, non voglio nessuna figa, non mi posso fidare, questa è la mia regola Queste fighe scoppiano per la fama, solo per un sacro, non vorrebbe darmi la testa Dopo che ho buttato più di 5k in eccesso ho ancora qualcosa, dico anche sia fake, però ho ancora qualcosa Allora andrò spaccare tutti gli iPhone, non so neanche che quando fai vedere lo schermo spaccato E prendiamo la massa da baseball, non tamba la massa Avvicinati mentre lo faccio, fai vedere Andrò spaccare tutti gli iPhone, fai vedere perchè dicono che è fake, primo nero a farlo Andrò con il prossimo, vedi lo schermo, vedi la retro, primo nero a farlo Andrò spaccare anche questo, non tamba, pippa le scarte, non sei, quindi andrò a spaccare Tutti gli iPhone spaccati, primo nero a farlo, ciao Dico sempre che è fake, gli iPhone spaccato Dopo spaccati ce ne andiamo, primo nero a farlo Cazzo Billy, comunque riguarda il discorso di prima di aiutare i gay Wey, avevate una gabbia mentale chiedendomi come fare con le lesbiche Perchè anche le ragazze e le figlie possono diventare lesbiche Quindi un po' come fare, volevate un po' sapere come fare Fra pochissimo vi spiego, chiaro? Cioè la vostra è una gabbia mentale perchè in realtà se noi aiutiamo anche le lesbiche Cioè le lesbiche dopo, diciamo che noi abbiamo solo da guadagnarci Perchè se aiutiamo le lesbiche dopo, quando vinceranno ci potranno chiedere di fare una cosa No Billy ascoltate vi dicevo, no dicevo che una volta che aiutano le lesbiche a loro volta Loro ci chiedono, ci chiederanno sicuramente di fare una cosa a tre con le loro fidanzate Quindi immaginate quante lesbiche possiamo aiutare e quante cose a tre possiamo fare Cioè Quindi Billoni se volete fidarvi di me scenderemo in piazza ad aiutare i gay Cioè noi abbiamo solo da guadagnarci Cioè possiamo veramente trombare a fare gol, cioè è incredibile Anche il discorso delle lesbiche è risolto Aiuteremo anche le lesbiche, sapete quante cose a tre faremo con Cioè un sacco di lesbiche faremo cosa a tre, cosa a dieci, cosa a un milione Cioè saremo pieni di lesbiche con cui faremo cosa a milione, incredibile Anche il discorso delle lesbiche è risolto Aiuteremo anche le lesbiche, sapete quante cose a tre faremo con Cioè un sacco di lesbiche faremo cosa a tre, cosa a dieci, cosa a un milione Cioè saremo pieni di lesbiche con cui faremo cosa a milione, incredibile